Ciao a tutti, video di prodotti finiti in realtà non pensavo di averne già così tanti però guardando il sacchetto ho visto che c'era un po' di roba ho detto vabbè magari è meglio che faccia il video perché sennò si accomuna troppo e poi non mi piace fare video lunghissimi so che a voi piacciono però non è neanche l'ideale allora prima di iniziare vi dico il rossetto in realtà stamattina avrei voluto registrarmi mentre mi preparavo ma non avevo neanche idea di cosa fare avevo però idea di usare questo rossetto quindi ero partita per fare una cosa molto nude sugli occhi poi alla fine ho messo qualche altro colore comunque ho usato sempre la Born to Run ho deciso di uscire il sole proprio adesso, grazie vabbè vi chiedo perdono io però preferisco fare i video sempre alla luce naturale quindi mi scuserete allora dicevo il rossetto è questo qua l'ho preso l'altro giorno della linea Le Chocolat di L'Oreal perché avevo sentito parlare benissimo sempre di questo rosso io non l'avevo neanche provato, devo essere sincera quando l'ho provato ho capito che questo sarebbe stato il punto di rosso che in teoria a me sta meglio perché ha una punta anche di fucsia all'interno una punta proprio si chiama Tasty Ruby Tasty Ruby 864 vabbè se faccio dare il numero comunque è l'unico rosso di questa linea quindi non è che vi possiate sbagliare molto bello, molto bello e già sulla durata so già benissimo perché si comportano di solito questo pezzo poi vedremo a volte da colore a colore cambiano le cose ma si comportano come le tinte di Maybelline quindi sono abbastanza resistenti iniziamo ah un'altra cosa no vabbè questo magari ve ne parlo stasera se riesco faccio un video mentre mi strucco perché voglio parlare di un prodotto che ho usato oggi per le sopracciglia e ho il terrore di struccare ma ne parleremo stasera però nel vostro caso dei prossimi giorni allora vabbè tiro pure la cosa più ingombrante che è questa vabbè confezione di veline il marchio è carta calla è carina però mi piaceva di più quella confezione con i rossetti però non sono riuscita a ritrovarla comunque si delle veline normalissime questa qua vabbè ce l'avevo questa è vuota perché adesso è quella in uso comunque ho finito l'altra che avevo la saponetta della Dove questa qua a parte che io impazzisco per il profumo della linea classica di Dove la uso per pulire tendenzialmente per pulire le spugnette mi è capitato anche per lavarci il viso devo dire che è fantastica anche per lavarci il viso quindi sinceramente tendo a ricomprarla molto volentieri davvero non mi aspettavo che per il viso potesse essere così delicata non me lo aspettavo a volte quando proprio non ho altre cose portate in mano insomma mi sembri capita uso anche lei tranquillamente poi ho terminato questo in realtà vabbè che da un po' che non lo faccio il video dei finiti in effetti comunque l'ho finito già da un bel po' è l'acceleratore spray di Australian Gold l'ho terminato al Circeo ce l'ho da l'anno scorso quindi ho usato due stati mi è piaciuto tantissimo per il profumo e trovo che i profumi dei Solaria Australian Gold sia mamma mia vi giuro vi apre la fame proprio comunque ho capito di cosa sa dopo anni che penso ma qual è il profumo vi giuro che ha lo stesso identico profumo delle Big Bubble classiche quelle blu uguale identico ecco se vi piace è quello poteste impazzire questo costa sulla ventina di euro dicevo che vi è piaciuto tantissimo anche se dovessi dirvi sull'efficacia non lo so se mi ha intensificato però mi piaceva metterlo c'è talmente una goduria perché poi si stende molto bene leggero si assorbe facilmente quindi metterlo è veramente una goduria quindi io valuterei di riacquistarlo anche se sono magari curiosa di provare anche altri prodotti però anzi prima o poi mi sa che proverò proprio i Solaria Australian Gold poi ho terminato l'ennesimo sarà il terzo ne ho altre scorta spumone della Veralab barra estetista cinica sapete insomma mi piace tantissimo altrimenti non l'avrei ripreso mi piace mi piace perché è delicato lava bene senza far tirare la pelle adatto per qualsiasi tipo di pelle secca mista eccetera anche se cioè sulle pelli miste in teoria magari di solito si desidera qualcosa di più sgrassante io personalmente non lo desidero non l'ho mai consigliato neanche a clienti con le pelli grasse perché trovo che secondo me ci vuole qualcosa che sia efficace e delicato per non squilibrare troppo il film idrolipidico vabbè non mi dilungo insomma l'ho sapato tante volte mi piace tantissimo tra l'altro sto anche aspettando il corriere che mi porti l'ordine che ho fatto dei nuovi prodotti dell'estetista cinica tra cui patch che contavo di provare se riesco anche stasera forse sarebbero più da usare di giorno però vediamo ho terminato sempre di Veralab la Zero Smog questa è la mini taglia che costa se non sbaglio sui 15 euro questa qua è quella consigliata per pellimiste in effetti è una grandissima una gran bella crema per pellimiste molto gradevole al tatto io sono riuscita ad utilizzarla tranquillamente d'estate che è una gran cosa mi era piaciuta molto anche quella levigante ma secondo me sono simili non ho guardato gli inci devo guardarli però secondo me sono abbastanza simili come ingredienti comunque questa è quella consigliata appunto per pellimiste è la prima volta che io d'estate riesco ad utilizzare una crema anche con 40 gradi l'anno scorso per esempio usavo solo esclusivamente il siero di Herval mi ricordo quando c'era proprio quel caldo assurdo e l'ho usata mattina e sera comunque mi è durato un bel po' per essere una mini taglia da 15 ml mi è durato un bel po' sinceramente in futuro potrei valutare tranquillamente di prendere la taglia grande anzi sicuramente per la prossima estate perché non sto neanche a rischiare di prendere cose nuove d'estate perché tra l'altro io ne ho una per esempio di Shiseido che per il giorno è fantastica leggera perché è una crema per pelli giovani e si sente però quella crema lì per esempio di sera non ha proprio senso metterla perché è un idratante blando questo secondo me riesce a dare il giusto mix sia di idratazione che di nutrimento quella per il giorno per esempio va bene ma per la sera anche se è leggera piacevole eccetera ma non va bene poi ho terminato queste due mini taglie di Elgon queste mi erano state date al Cosmoprof se non erro della linea Imagea ho scoperto dopo esistere due linee diverse di questi shampoo una dedicata ai capelli sottili se non ricordo male e l'altra ai capelli più spessi ora io non mi ricordo qual è questa nel senso questa linea qui di Elgon la linea Imagea è una linea con ottimi ingredienti io l'avevo provata l'anno prima però ricordavo che avesse appunto un formato diverso in effetti quando l'ho utilizzata anche il profumo era diverso ora io non mi ricordo se la linea per capelli sottili fosse questa o quella fatto sta che io mi sono trovata molto bene anche con questi ma quella tra linea lì secondo me era ancora meglio se trovo dei link che magari specificano meglio ve li lascio nell'info box fatto sta che comunque sono dei prodotti fantastici li straconsiglio che utilizza prodotti naturali sui capelli perché hanno le prestazioni di una linea professionale siliconica ma senza silicone senza sulfate eccetera eccetera veramente ottima ripeto preferivo quell'altra perché evidentemente era quella giusta per i miei capelli la sentivo ancora più soprattutto il balsamo ancora più potente mentre per un capello sottile sicuramente questo è più indicato perché è decisamente più leggero quindi appesantisce meno però ecco ve lo segnalo perché è veramente un'ottima linea poi l'altra sera mi era venuta voglia e tornata voglia di riprovare questo qua ve l'ho parlato già tante volte sto parlando dell'esfoliante enzimatico di sentifolia io non ho neanche pensato di annusarlo di provarlo l'ho direttamente schiaffato in faccia e lì ho capito che era scaduto in realtà si sente anche che è scaduto l'ho usato comunque tante volte mi è piaciuto tantissimo sapete che sicuramente è uno dei migliori che abbia provato quello di è che comunque io sempre spero di fare sto benedetto video prima o poi comunque questo è uno di quelli che mi è piaciuto di più ha anche un ottimo costo si trova su dei siti non so se ci sono no ci sono delle bioprofumerie che trattano questo marchio mi sa però non lo so non le conosco su internet comunque si trova molto buono questo è l'estratto di dattero è veramente potente mi è piaciuto tantissimo di più non vi posso dire terminato proprio l'altro ieri sera la mini taglia della luce liquida sempre vera lab setista cinica mi piace tantissimo la uso come tonico io la uso mattina e sera qua dice una o due volte al giorno io non ho spelle sensibili la uso tranquillamente anche due volte al giorno lo passo col dischetto è tutto a posto è a base di acido salicilico quindi è un esfoliante mi incuriosisce molto mi ha sempre incuriosito anche quello di pixi in realtà mi ha incuriosito di più anche quello di The Ordinary ma non sono mai riuscito a comprarlo perché quando lo volevo non era disponibile nei siti anche nei negozi tipo Milano e quando lo volevo lo potevo magari ordinare perché era disponibile non potevo ordinarlo quindi prima o poi proverò anche quello però quello è a base di acido glicolico e anche quello di pixi a base di acido glicolico non lo so perché devo capire se la mia pelle ha affinità con l'acido glicolico quando ho provato la linea di Alchemilla a base di acido glicolico non mi aveva fatto impazzire quindi non lo so magari prenderò la mini taglia di pixi così mi posso togliere questo sfizio che poi in realtà costa molto più di quello di The Ordinary che è un boccione per quello dico quindi devo vedere prima o poi devo riuscire a comprare prima di passare al make up abbiamo alcune cose ho finito l'ennesima questa me l'ho già parlato tante volte è finito è abbastanza rovinata quindi preferisco buttarla questa spugnetta a onde della pro che io compro da Tigotà di solito costa 5 euro ma li vale tutti io adoro e la continuo a utilizzare molte di voi l'hanno già provata mi hanno già fatto sapere che l'apprezzate parecchio poi ho utilizzato questi due non sono esattamente dei campioncini sono in realtà dei formati travel di struccante della Namur che sarebbe praticamente la divisione skin care mi piace la definizione di visione skin care di Defa Cosmetics che hanno lanciato al Sana e sono la salvietta acqua shake e il cream milk allora io ne ho altri due cioè uno di questo e uno di questo ne ho già provati altri due perché me ne hanno dati diversi ho deciso che stasera insomma nelle prossime serie registro uno struccaggio con questi ve lo faccio vedere comunque fantastici soprattutto l'acqua shake in formato salvietta è veramente una figata anche perché che poi questo è un toglie anche il come si dice il trucco waterproof va sicuro che lo toglie però ho pensato di provarlo con questo rossetto che però non sarebbe molto leale provarlo con questo rossetto perché questi sono veramente resistenti comunque ve lo faccio vedere sugli occhi e vengono vendute in confezioni in modo che voi possiate portarvi in giro solo quelli che vi servono comunque veramente ottimo poi abbiamo finito con il con la skin care hair care eccetera andiamo al make up di make up ho da farvi vedere 5 cose vabbè due sono campioncini una è una anzi da lei la spugnetta di mulac allora parliamo di questa spugnetta di mulac dopo averla lavata l'ultima volta ho deciso di buttarla perché non mi piace proprio zero allora a parte che secondo me ha iniziato a deteriorarsi troppo presto mi sono ostinata comunque a terer ho detto magari ogni tanto l'alterno e uso questa l'ultima volta che l'ho lavata adesso vabbè è tutta asciutta ed è quasi tornata normale ma non potete immaginare come era rimasta l'ultima volta che l'ho lavata era rimasta tutta tutta proprio ritirata aveva preso la forma delle dita era una cosa indicibile e non mi piace non mi piace proprio quella di Nabla che io ho già usato almeno il doppio delle volte di questa ma secondo me anche di più è ancora perfetta a livello di colore vabbè è un po' macchiata ma è rosa quindi si vede è chiaro qua magari non si nota ma magari è macchiata pure lei anzi sicuramente ma a livello di consistenza è ancora perfetta non ha una scalfitura niente questa è praticamente tutta rovinata non mi piace per niente non la ricomprerò quella di Nabla costa anche un po' meno di questa quindi insomma io spero che la tengano perché mi sa che sì dovrebbe essere permanente la spugna di Nabla penso di sì sì poi andiamo ai due campioncini ovvero questo fondotinta make up studio di Dego Dalla Palma questo è il colore numero 213 l'ho usato due volte in realtà avrei potuto farne anche tre di utilizzi perché la prima volta ne ho preso un sacco in realtà l'ho sprecato devo dire che non mi è dispiaciuto per niente è bello tosto io l'ho messo sempre con la spugnetta imbevuta di Fix Plus di MAC è avuto una buona resa un'ottima durata questo sarebbe un fondotinta alta coprenza lunga tenuta SPF 20 niente male niente male non penso di comprarlo perché diciamo che se proprio dovesse decidere di comprare un fondotinta in questo momento ma dovrei evitare e comprerei o quello di Dior o quello di Benefit perché sono dei fondotinta che come texture mi sono piaciuti di più sono più più sottili fanno meno meno strato sul viso quello comunque è un buon fondotinta se cercate alta coprenza ve lo consiglio quelli di Benefit di Dior non hanno un'altissima coprenza però comunque mi sono piaciuti un sacco ho finito questo campioncino ma che campioncino in realtà è riduttivo perché io ne ho ho fatto almeno una quindicina di applicazioni sto parlando del meraviglioso fantastico sicuro prossimo acquisto più in là magari per Natale non lo so correttore di Sisley il Fitocern allora io ho avuto questo campioncino che era del numero 4 e la ragazza me l'ha messo veramente tanto non sembrava ma mi è bastato per un sacco di applicazioni è attualmente in assoluto uno dei migliori correttori che io abbia utilizzato temporeggio perché è caro arraggiato perché costa 80 euro e 50 da Sephora l'ho trovato su Amazon a meno con il 20% si riuscirebbe a pagare sui 64 su Amazon il prezzo scilla perché una volta l'ho trovato a 60 un'altra volta a 63 quindi dipende vedremo io comunque devo innanzitutto capire il colore invernale dopodiché voglio anche vedere se con la nuova routine che ho adesso per il contorno occhi metti che i correttori magari cominciano a funzionarmi meglio chi lo sa quindi temporeggio per quello perché è veramente caro però top veramente un correttore spettacolare ultimi due prodotti sono una cipria libera grazie a Dio ce n'era poca dentro quindi sono riuscita a finirla velocemente è la Prime and Fine di Catrice Translucent Loose Powder non male però non mi ha diciamo esaltata io amo le cipre libere come sapete non mi ha diciamo fatta innamorare particolarmente non ha assolutamente nessuna intenzione di comprarla e di ricomprarla infine non per importanza il mascara di Pupa l'Explosive Lashes allora in realtà non sembra secco è diventato molto molto pastoso non si stende più benissimo sapevo che non mi sarebbe durato tantissimo per il semplice motivo che l'imboccatura del mascara è molto larga la cosa è voluta nel senso che questo permette di prelevare un bel po' di prodotto e depositarlo sulle ciglia che secondo me è il punto di forza di questo mascara perché comunque volumizza tantissimo e su di me allunga tantissimo quindi io mi aspettavo una cosa del genere la cosa non mi ha assolutamente deluso tanto che l'ho ricomprato perché è una bomba come mi diceva una di voi se non so io Veronica mi pare di ricordare che mi aveva scritto anche a te funziona meglio all'inizio che quando si addensa sì effettivamente sì questo funziona da dio proprio l'ho messo anche oggi le primissime applicazioni poi si addensa si funziona bene finché diventa così non si riesce a utilizzare più qualcuno potrà storcere il naso dire però io non vi so quantificare quanto mi sia durato perché io spesso alterno anche se lui è quello di Murak che li ho usati molto spesso quindi ripeto non ve lo so quantificare perché normalmente dei mascara mi durano tanto tempo perché li su un po' poi li metto da parte eccetera questo quello di Murak non me l'avendolo messo da parte mi è durato meno rispetto alla mia media però ecco per me è talmente figo che io per ora continuo a ricomprarlo sono curiosa di provare quello di Nars ieri sono andata da Sephora e per l'ennesima volta era terminato giorno prima anzi no stavolta no lo stesso giorno giorno prima quindi si vede che qualcuno nell'universo non vuole che io acquisti so mascara di Nars ma boh non mi mancano di certi mascara e niente questi sono i prodotti finiti adesso se riesco faccio anche quelli food e in realtà detersivi perché ho più detersivi cioè comunque ho abbastanza un po' di detersivi e basta ci vediamo al prossimo video un bacione ciao 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 All right.